ciao amici e benvenuti all'altro video del vostro rockwain benvenuti al nostro mio unboxing e come vedete oggi vi spacchetterò questo grande paccozzo giallo e come vedete appunto è un pacco classico di poste italiane come potete notare già aperto e aperto perché quando l'ho ricevuto sinceramente non ho resistito perdonatemi e l'ho aperto subito comunque ho risistemato il contenuto al suo interno e adesso ve lo mostrerò soltanto che voglio dirvi un'ultima cosa qui dentro si trovano delle cose che io ho comprato da un mio amico e in più si trova un regalo inaspettato che io sinceramente davvero non mi aspettavo e soprattutto non mi aspettavo l'enorme regalo che mi ha fatto davvero davvero inaspettato sono rimasto a bocca aperta comunque questo regalo l'ho già incartato e confezionato e lo mostrerò qui naturalmente qui all'interno di me scatolo e lo spacchetterò quindi scoprirete cosa mi ha regalato esattamente il mio grande amico simone che gestisce un bellissimo canale che si chiama la casa del giocattolo ho comprato da lui alcune cose e in più appunto mi ha voluto regalare questo regalo che spacchetterò e quindi scoprirete cosa mi ha regalato nel mio imminente special di natale 2017 volevo aggiungere anche che vi chiedo scusa per l'enorme ritardo che questo mio special di natale quest'anno ha subito purtroppo ci sono stati ritardi vari quindi ho posticipato questo special di qualche giorno e vi dico anche che questo mio special di natale conterrà cinque puntate e durerà dal 27 fino al 6 gennaio in questa in queste date pubblicherò cinque puntate speciali dedicate appunto al mio special di natale 2017 quindi adesso non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire il contenuto di questo mio unboxing di oggi come vedete è tutto ancora coperto per tenere un altro poco di suspense però quello che vi mostrerò subito è appunto quello che ho acquistato da da simone e quindi intanto ho messo questa carta qui però voi potete già cercare di intuire cosa ho acquistato da simone avete capito cosa cosa ho comprato ancora no ancora no qualcosina già si è capito chi è più anziano credo che l'ho già indovinato comunque uno due tre e allora guardate com'è bello ecco qua amici miei da simone ho comprato questa bellissima doll questa stupenda doll di batman direttamente dalla seconda serie animata di batman esattamente quella del 1998 che si chiamava appunto che si chiama appunto the new batman adventures include anche dei bellissimi accessori qui appunto include il batterampino proprio col design della seconda serie animata lo scout del viso per me è totalmente identico a quello della prima serie animata quindi si può facilmente abbinare come design del viso anche alla prima serie amici sono rimasto davvero sbalordito di questa doll perché mi piace davvero davvero un mondo e quindi fatemi sapere se sul mio canale volete la recensione di questo gioiellino perché sinceramente io lo classifico come un vero un vero gioiello e allora passiamo all'altro acquisto che ho fatto da simone allora oltre a comprare quella stupenda doll di batman da simone ho comprato anche questa bellissima action figure ecco qua questa bellissima action figure del green goblin direttamente appunto dal primo film di spider-man appunto con la regia di Sam Raimi questa stupenda action figure appunto prodotta dato i beads nel 2002 questa è la variante del green goblin quello che appunto la maschera non si leva quindi non ha il viso di norman sotto la maschera è proprio così ha proprio la testa appunto della maschera del green goblin davvero bellissimo e l'ho acquistato appunto abbinato del suo veicolo del suo mezzo di trasporto appunto vedete com'è bello questo bellissimo veicolo volante questo aliante credo si chiami del green goblin davvero bello bellissimo completo dei suoi missili davvero bellissimo sono appunto sia appunto quella doll di batman che questo green goblin sono appunto oggetti usati ma come vedete sono in condizioni pari al nuovo davvero davvero bellissimo l'unica differenza in questo aliante del green goblin è che questa punta è leggermente spezzata vabbè ma volendo non è una una differenza volendo si potrebbe anche un po' aggiustare comunque molto bello appunto che quest'aliante ha questo manico e questo manico può anche essere trasformato in una base d'appoggio e allora adesso andiamo al regalo che mi ha fatto simone però c'è da precisare che simone realmente mi ha fatto due regali uno è questo uno è questo piccolino ma è altrettanto grande come regalo per me uno è questo che ve lo mostro subito che è una testa intercambiabile appunto di batman del batman appunto scusate ecco della serie animata della prima serie animata del 92 appunto prodotto prodotta questa testa dalla DC Collectibles mi ha voluto regalare questa testa con questa espressione appunto alternativa perché lui essendo che ha comprato varie edizioni di questa serie animata quindi ha ha ottenuto anche tantissimi pezzi doppi quindi io per fortuna non ho avuto l'intenzione di comprare quasi tutta la serie ma soltanto ha alcuni pezzi lui invece ne ha comprati molti di più e quindi ha dei pezzi anche doppi ed è per questo che lui mi ha voluto regalare con affetto questa doppia testa alternativa di batman che lo ringrazio davvero di vero cuore grazie ancora simone e il regalo che io parlavo prima questo enorme regalo che lui mi ha voluto fare davvero io sinceramente non mi aspettavo una cosa del genere questo grandissimo regalo che lui mi ha voluto fare io l'ho già come vedete incartato l'ho confezionato con questa altrettanto bella carta da regalo natalizia e scoprirete Simone cosa mi ha regalato durante il mio special di Natale esattamente nella sezione dove appunto scarterò e scarteremo insieme alla mia ragazza i miei e i suoi regali di Natale e insieme ai nostri troverete appunto questo bellissimo regalo che mi ha fatto Simone e quindi amici questo era il mio unboxing di oggi fatemi sapere che cosa ne pensate con un messaggio scritto o con un mi piace al prossimo video e come vi dico da sempre ma che cosa è che cosa è